E' nato 27 anni fa per la grande passione del volo che avevo, questa era un'azienda agricola di 34 ettari, l'acquistai e iniziai a far volare i miei amici dove ci si incontrava per volare insieme. Il mio lavoro mi prendeva tanto che dopo 10 anni l'ho venduta e dopo ulteriori 10 anni l'ho ricomperata perché il vecchio proprietario mi aveva chiesto se era interessato. La combinazione fu che in quegli anni morì purtroppo mio figlio in un incidente aereo, a lui piaceva tanto questo posto, prima si chiamava il Delta e ho voluto dedicarlo a lui chiamandolo aviosuperfici di Orzano, Guglielmo Zamboni. Ma quali servizi vengono erogati in questa aviosuperficie? Qui c'è tutto ciò che può essere utile al pilota, al pilota di ultraleggeri e pilota di aerezione generale. Abbiamo oggi una taxiway e la pista asfaltata, lunga 840 metri, quindi possono otterrare aeroplani già abbastanza importanti. Abbiamo delle officine per l'assistenza a tutti gli ultraleggeri, officine per l'assistenza aereo e dell'azione generale, un'officina per la riparazione e manutenzione dei motori Rotax, oltre ai servizi che offriamo che sono la vendita di tutti i tipi di carburante, benzina super, avio e getta 1, oltre a intrattenimenti che sono i ristoranti, bar e altre cose, gioco per bambini, piscina ecc. Il futuro è soltanto mantenere questa struttura oggi come sono riuscito a realizzarla. Non vedo degli sviluppi aeroportuali superiori, deve restare così come è per il divertimento di tutti i piloti. Lo speriamo tutti che rimanga così. Ringraziamo Gianni Zamboni per la sua ospitalità e auguriamo un felice futuro per questa biosuperficie e per noi tutti che ne godiamo dei servizi. Grazie. 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 Ozzano, 1-9, punto attesa 0-3, allinea e decolla per un immediato. Grazie. Grazie.